Salve a tutti, benvenuti sulla rubrica uno pezzo di Strike Channel. Ragazzi se vi dico che è successo stamattina non ci crederete. Io sapete che giovedì vado a Padova, sono impegnato tutto il pomeriggio e tarda mattinata. Allora stamattina mi metto di buon umore e faccio il video. Stavo cliccando il tasto arresta registrazione per finire, ultimare il video. Manca la corrente, salta tutto. Ma in tutto Rovigo perché stanno facendo i lavori in zona. E quindi niente, la corrente è ritornata alle due del pomeriggio e nel frattempo già era andato via. E quindi il video è perso tutto, ho dovuto rimandare tutto a stasera. E vabbè succede, succede, sono cose sfiga. Però vabbè, la scelta del giovedì del comune di Rovigo fa parte ovviamente del One Piece. Perché sa che il giorno in cui io faccio il video... Allora, è un video molto semplice, non è un OPV, è un video sempre di commento, di post-commento al capitolo... Fateci caso, non ho nessun tic, sono le solite zanzare che girano intorno... Di questo capitolo. Io ho pensato tanto in questa settimana e ho letto anche molti commenti. Innanzitutto, pensavo proprio questa cosa, proprio perché vedevo tanti commenti anche diversi. Secondo me sicuramente Rufi accetterà, perché Oda anche vuole che... No, se invece è ovvio, è palese che dirà di no. Bellissima sta cosa, ragazzi, è fantastica. Cioè, One Piece più ci fa scervellare e più è bello. Bravo Oda, anche nella scelta, in prima della pausa dell'Ottocento, lui sa benissimo che noi ci aspettiamo qualcosa nell'Ottocento, prima della pausa, poteva fare di tutto. Poteva ad esempio far vedere delle navi della Marina in lontananza e qualcuno che diceva Sta arrivando Toro Verde! Invece no, perché lui ha notato che anche mettendo Toro Verde o il settimo Cici Buccai, tutti potevamo solo fare teorie, ma teorie ovviamente basate su cosa? Sul nulla, sul Toro Verde le teorie già sono state fatte. Sul settimo Cici Buccai quelle poche che ci sono, ma sono tutte campatinare, perché non si sa nulla del settimo Cici Buccai, potrebbe essere chiunque. Invece, meravigliosa sta cosa, la scelta dell'equipaggio. Perché è bella? Perché tutti possono dire la loro, anche quello che non segue One Piece da tanto tempo, non c'è bisogno di essersi letto tutti i capitoli e fare pippe mentali. È anche a volte una questione proprio di gusti, quasi come scegliere il vestito, il colore, c'è a chi piace il rosso, a chi piace il viola, c'è a chi piace il blu, c'è a chi piace una flotta enorme e c'è chi invece preferisce guardarsi la solita flotta di poche persone. Ma io allora ho cercato di riassumere in breve i maggiori pro e i maggiori contro di questa situazione. Prima di iniziare però una cosa matematica che ho letto in alcuni commenti, molti l'hanno notato, complimenti a loro, non ci sarei mai arrivato perché io con la matematica sto proprio croce nero con la matematica, che praticamente sono sette flotte e sono in tutto 5.600 uomini. 5.600 diviso 7 fa esattamente 800, come il capitolo che stiamo per vedere. Grande Oda, anche matematico il nostro Oda. Allora, i pro. I pro sono i seguenti. E io chiedo scusa al sommo, sommo, sommo buta, che è uno dei sommi, diciamo, sommo buta, che però mi piace molto questo termine che lui ha ideato, la sindrome di Marineford. Quanto mi piace sta cosa. Perché in effetti tra i vari pro ci sono quelli che hanno un po' la sindrome di Marineford. pensano che One Piece sia stato favoloso e in effetti, secondo me, se noi chiedessimo a esperti di marketing, io credo che proprio a Marineford One Piece si è conquistata una bella fetta di fans, soprattutto gli amanti delle mazzate, delle grandi guerre, comunque, a parte sta parentesi, Oda comunque penso che lo sappia. La sindrome di Marineford è che sono tante cose, tutti i livelli di forza sono decisi da molti a Marineford, poi Marineford è bella perché è una grande guerra, ecco, in effetti, Alabasta, Skypiea, Drum e così via, fino ad arrivare ad adresse rosa, sono molto spesso dei combattimenti 1 a 1, Zoro contro Mr. One, Zoro contro Pika, Sanji contro Mr. Chu, eccetera, eccetera. E invece, invece, cos'è? Marineford ha come scenario non un combattimento che viene in una strada abbandonata solo loro due, oppure come adresse rosa un po' di civili che scappano, ma intorno c'è la grande guerra, i piccolissimi pirati, gente come noi, gente che prende in mano una spada e combatta, eccetera, che si sfida contro dei Marine che valgono una mezza sega, però anche loro, però è bello che un grande combattimento come Borsalino contro Marco la Fenice, Againu contro Ace, quello è durato poco, contro Jim Bay, Jim Bay contro Ghecomore, tutti i vari combattimenti che abbiamo visto a Marineford erano circondati come scenografia proprio, da tante altre piccole lotte, quindi tutti i soldati che avanzavano, Barbariera che diceva andiamo, conquistiamo la piazza, quindi c'era anche quel gioco strategico come i grandi eserciti che si muovono, con le divisioni, i reggimenti, eccetera, a molti è piaciuto, Oda, ricordiamoci anche Kaido, il discorso di Waterloo che è ancora attivo, potrebbe avere in mente altre grandi guerre, quindi uno dei pro principali è poter fare una guerra proprio di valore numerico, che poi nella sostanza i grandi combattimenti saranno quelli, sempre, un grande di Kaido, o un grande di Big Mom, dobbiamo vedere anche Big Mom, ha un esercito, l'abbiamo visto in alcune piccole vignette, che Big Mom ha dei piccoli soldatini, che sembrano essere soldati semplici, però intanto ce li ha, e ci vuole un certo numero per sostenere, Oda può tranquillamente gestirsi la storia, si inventa dei nemici adatti a ogni livello di forza, ma il punto è che, in questo scenario, noi abbiamo, quindi i soliti combattimenti, uno a uno, Sanji che incontrerà uno forte, Franchi uno forte, Zoro uno forte, eccetera eccetera, però intorno avremo sta grande guerra, e quindi cerchiamo di soddisfare anche un po' la sindrome di Marineford. Altro pro, Ruffi deve accettare, perché lui deve diventare un imperatore, deve aumentare il suo livello di forza, eccetera, in effetti, Ruffi a Marineford ha fatto una madonna di figura, bravissimo, l'acchi del re conquistatore ha fatto svenire tutto, e Barba Bianca che dice che è bravo, e quell'altro che è, Caino è il figlio di Dragone, grande figura, però, nella sostanza, è stato un pirata semplice, senza manco la sua flotta, in mezzo a due grandissimi schieramenti, che erano Barba Bianca, da una parte con tutti i suoi alleati, e la Marina, o meglio, una parte della Marina, ma in mezzo gli sembrava una formichina, in un grande scacchiere, questo diventerà imperatore? Allora, in effetti, molti dicono, se Ruffi vuole iniziare anche lui ad avere un peso come Barba Bianca, un rispetto come Barba Bianca, deve farsi anche lui, anche una quantità proprio numerica di uomini, e quindi potrebbe, in più, altra cosa, sempre per i pro, Ruffi deve diventare anche un po' più stratega, non può soltanto dare il super pugno di scimmia, eccetera, ma deve anche, come Barba Bianca, voi indirizzatevi a destra, voi a sinistra, la strategia, la cosa, potrebbe anche dare soddisfazione a Usopp, molti tirano in campo Usopp con sta storia, ma ci potrebbe stare. Ultimo dei pro, più importante, secondo me, il power up. Ogni saga, soprattutto nella prima serie, pensiamo a Water 7, che alla fine arriva Franchi, arriva la nuova nave, ma anche, la saga di Arabasta, arriva Nico Robbins, la saga di Arlong, arriva Nami, in ogni saga, c'è un power up, delle volte può anche essere un power up, un po' più semplice, diciamo così, nulla di che, un'arma in più, però, come il dial impact, no? Quelle robe lì varie, però, in effetti, se adressero a 100 capitoli, se Rufy dicesse no, a tutta la flotta, sarebbe quasi come, se è finita la saga, e questi se ne tornano, ad adressero a con un pugno di moschi, ma nulla alla fine, si, è sconfitto da Flamingo, dal punto di chiesa di potenziale, ci verrebbe a mancare un po' quell'idea tipo Zelda, quei giochi dove tu fai il labirinto, e in quel labirinto, oltre a sconfiggere il mostro cattivo, ottieni anche una nuova arma, un potenziamento, un nuovo membro, una nuova nave, un nuovo membro dell'equipaggio, un nuovo membro, in questo, cortesia, siamo un po' siate, buoni, ogni tanto, anch'io, mi lascio scappare le ambiguità, dannazione, se fossi a scuola, adesso tutti gli alunni a ridere, allora andiamo avanti, i contro, allora i contro qual è? ecco, restiamo in tema power up, domanda, ma siamo così sicuri che è proprio un power up? cioè, oh, togliendo i due che hanno vinto il blocco, cioè Bartolomeo che ha vinto il blocco B, e, attenzione, è vero che ha vinto Rebecca, ma, Cavendish trasformandosi nel suo altarego, ha fatto fuori tutti, poi si è addormentato, questo mi sa molto di opera, opera teatrale, queste cose un po' così esagerate, secondo me Cavendish è quello un poco poco più forte, ma ad esempio tutti gli altri, no? Quello lì, cioè, un Dellinger, mi fa fuori facilmente, come si chiama, l'ideo, quello lì, il pugile che fa i punti di bomba, ai Rudin, ai Rudin, un cazzo si chiama, il gigante, ai Rudin, alla fine, cioè, in fondo, pensiamoci un attimo con calma, ma tutti questi, e lei o dei tontatta per dire, che perde contro Sugar, quando ci sta l'incontro, ma siamo sicuri che è proprio un power up, cioè, alcuni dicono, adesso Rufi, con questa flotta, sconfiggerà Kaido, ma se questi stavano a dress rosa, e non fosse stato per Rufi, Doflamingo avrebbe fatto un culo, una faccia così, diciamo, a tutti, ma non sta sto power up, scusate, cioè, ecco, io non vedo tanto un power up, dal punto di vista proprio di potenziale, perché alla fine sono tutti uomini, che stavano soccombendo con Doflamingo, figura di Kaido, Kaido proprio li fa pezzi, ma anche Big Mom, cioè, gli imperatori, cioè, se Doflamingo è un passo sotto a un imperatore, scusate, allora, c'è poco da fare, non c'è sto power up, io credo, più che altro, se dovessi accettare sempre quel discorso, che Oda poi farà nemici adatti agli amici, cioè, se proprio dovesse accettare, farà un nemico adatto per, che ne so, per Orlumbus, farà un nemico adatto per Leo, farà un nemico adatto per Bartolomeo, e così via, tanto poi è lui quello che decide, però, ora come ora, se noi facciamo i livelli di forza, onestamente, non è che vedo tutto questo grande potenziale, cioè, sono sette uomini forti come capitani di flotta, ma abbiamo visto che a Dressrosa, comunque, Doflamingo faceva un culo a tutti questi, quindi, piano, a dire che adesso cosa solo è flotta, Rufi può anche fare fuori Kaido, piano, andiamoci, piano, altro contro, ma riesce Oda a gestire tutta sta gente, immaginate, se dovessero restare tutti, 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 sempre in ogni vignetta, cioè, Rufi si ferma per fare una pisciata, e Oda deve farci vedere, in ogni capitolo, Orlumbus che dice, Bartolomeo che dice, probabilmente dirà, lasciamo stare, cosa potrebbe dire Bartolomeo, comunque, in generale, Leo cosa dice, e in più Usopp che dice, e Nico Robin che dice, oh, no, diventerebbe ingestibile, quindi questi qui ci devono stare, però, certamente, non come dicono loro, nuovi Nakama, eccetera, un altro discorso è, Rufi, se dovesse accettare questa superflotta, non somiglierebbe più a ciurme, come Shanks e Roger, qui è una questione proprio di gusti, ognuno è libero di fare quel che vuole, lo stesso discorso della strategia, Rufi, nei pro, c'era il discorso, Rufi deve diventare uno stratega, c'è anche chi dice, a me piace Rufi, così com'è ingenuo, un po' stupidone, mentalmente, non stratega, mi piace così, l'idea che Rufi all'improvviso diventa, più stratega di Napoleone, è un po' come falsare il personaggio, un po' come Usopp, Usopp non potrà mai diventare un superforte, perché lui è nato in quel modo, e dovrà restare in quel modo, può avere poi il power up improvviso, però, i personaggi sono nati in un certo modo, ma vabbè, poi su Usopp è tutta una teoria mia, è una storia lunghissima, e io mi ho detto che, io ti dico sempre, ci sono personaggi complicati, no? Dico Fugitore, per me è molto complicato come personaggio, io vi ho detto, qual è secondo me il più complico di tutti, Usopp, proprio da punto di vista mentale, psicologico, se il Fugitore era come martellarsi i maroni, Usopp è come martellarsi tutto il corpo, cioè è proprio una roba pazzesca come personaggio, come complessità di personaggio, ma comunque questa è un'altra storia, infine c'è un solo discorso che volevo dire io personalmente, molti hanno notato che a Dressrosa è mancato il banchetto finale, la grande festa, tutti insieme, allegramente, chissà che questo discorso del brindisi e del sake, non possa sostituire, ovviamente succederà in mare aperto, perché al momento ci sono dei detriti che stanno per caderti in testa, ma potrebbe sostituire sto sake tutti e 5600 insieme, una specie di quello che in altre saga era il banchetto, tanto Rufi a Rebecca sarebbe salutata, Rebecca sarebbe la divi della situazione, lo abbiamo capito tutti, fatti i saluti, abbandonato Fugitore che rappresenta lo smoker della situazione, sempre facendo il parallelo con Alabasta, salutati tutti, arrivederci ragazzi, noi partiamo, e si fa sto banchetto tutti insieme, che è un po' come un festeggiamento di fine saga. potrebbe esserci, non so se è un pro o un contro, comunque potrebbe esserci questa cosa a prescindere. Una mia teoria su cosa potrebbe essere l'800, così facciamo anche un po' di preannuncio del video di domenica, che invece è un OPV, cioè un video di cui le li elaborati con tutte le cose, secondo me, ODA, iniziamo da questo, già l'ho accennato anche nell'ultimo video, lo ripeto adesso, non è lineare, l'idea che il capitolo inizia con Rufi che dice, Dunque ragazzi, la volta scorsa eravamo rimasti a questa domanda, vuoi accettarci come? Io rispondo, o, sì, rispondo, o, no, no, non ce lo vedo, non è lineare, così One Piece che arriva subito la risposta, è probabile che mentre Rufi sta rispondendo, iniziano a cadere i detriti, però arrivano i civili, il fuggitore si ferma, e allora poi Rufi dice, partiamo, poi rispondo dopo, poi l'improvviso arriva, poi arriva un altro, e poi più lo vedo più così il capitolo, quei casini totali che non si capisce, ecco, io vedo, mi presumo un capitolo del genere, poi alla fine, verso proprio le ultime pagine, Rufi potrebbe accennare qualcosa, che ancora una volta, potrebbe far presumere un sì o un no, ma sta linearità di risposta a Rufi, che dice sì o di no, non lo so, non ce la vedo tanto, potrebbe anche essere, ma se Rufi, ad esempio, dicesse no, magari è quel no, che potrebbe lasciare uno spiraglio, dicesse sì, però è un sì, con delle limitazioni, molto chiare, proprio per quei vari discorsi, sul pro che vi facevo io, ad esempio, vi potrei immaginare, ma questa è una mia teoria, è solo un esempio, un lumacofono, un lumacofono col bottoncino, tipo Buster Call, e loro che dicono, guarda, quando hai problemi, ti diamo questo lumacofono, tu lo usi, clicchi, e noi corriamo, c'è un esempio, è una cazzata, però potrebbe anche trovare un accordo del genere, e questo è quello che penso più di tutti, quindi la non linearità, e poi un mezzo, io penso più al lumacofono, ma magari a Vivre Card, robe varie, queste varie magie, log post, queste magie da One Piece, che comunque permetterebbero, a questa flotta, di accorrere, quando necessario, ma l'idea che poi sono presenti, non ne sa che in ogni momento, anche la famosa pisciatella di Rufi, che fa un attimino in qualche isola, no, non ce la farei, sarebbe pesantissimo, One Piece, ecco, ricordiamoci che una delle grandi caratteristiche, proprio anche del teatro, è mantenere sempre attiva l'attenzione, questo è fondamentale, è alla base di tutto, e Oda deve essere bravo, comunque vada, a mantenere viva l'attenzione, non perdersi troppo, nella frase di Bartolomeno, nella frase di Orlumbus, cioè, arriviamo anche al dunque, no, ecco, e quindi questi sono i pro e i contro, quindi, penso più di tutto, una risposta rimandata, comunque, l'Ottocento cosa c'è da aspettarsi? Qualcosa deve accadere, io, quello che avevo detto la mia proposta da YouPorn, che era quella lì, che magari arrivava pure Marco la Fenice, Diamond Josu, e tutti volevano allearsi con Rufi, creando un super mega esercito gigantesco, anche perché più rileggo Marineford, e più vedo che c'è un'ammirazione nei confronti di Rufi, da parte degli ex di Barba Bianca, che è enorme, io questi qui penso proprio che stanno proprio agli sgoccioli, per ritornare questi, chissà, devono vendicarsi di Barba Nera, perché quello che ha fatto al loro capitano, in fondo, lui ha portato essa alla marina, lui si è preso il frutto di Barba Bianca, cioè cazzo ragazzi, questi ce l'hanno a morte con Barba Nera, chi meglio di Rufi, una super mega alleanza, più di 5.600, ma Rufi, tante, tante idee, tante idee, questa è la mia, se volete, tanto abbiamo un'altra settimana di tempo, ridiamoci su e scherziamoci su, e questo è quanto, ragazzi lo vado a mangiare, alla prossima,